Direttamente da Milan e Loi. Eccoci qui, ancora una volta, per portarvi le ultime notizie del nostro amato Milan. Prima di proseguire, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Lala croata Ante Rebic, purtroppo, non ha avuto una stagione brillante nel 2022-23, a causa di alcuni problemi fisici. Ora, secondo Gianluca Di Marzio, siamo in trattativa con il Besiktas per un eventuale prestito del giocatore. Sappiamo che preferiremmo una cessione a titolo definitivo, ma siamo disposti a prendere in considerazione un accordo di prestito. Tuttavia, la sfida principale è lo stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione che Rebic percepisce attualmente. Il Besiktas offre uno stipendio considerato basso in confronto. La trattativa è ancora in corso e speriamo di poter superare questo ostacolo. In caso contrario, Ante Rebic rimarrà al Milan. La sua permanenza potrebbe essere positiva se ritroverà la sua forma migliore e mostrerà la sua qualità in campo. La scorsa stagione, l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte ha giocato 23 partite in Serie A, assicurandosi 3 golle e 2 assist. Ora vogliamo conoscere l'opinione di voi, appassionati tifosi. Cosa ne pensate di questa possibile trattativa? Lasciate i vostri commenti qui sotto. Non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuta la notizia e di iscrivervi al canale per non perdere nessun. Aggiornamento sul Milan Continuiamo a sostenere il nostro tempo, perché insieme, verso il successo. Forza Milan!